Bentornati in un nuovo video dedicato a Infinity Magic Ride Oggi è uscita la patch note relativa appunto alla patch del 25 luglio Allora, ci viene riprodato che questo weekend abbiamo il banner con Moloch, Dez, Pocas, Zora e Andras In aggiunta abbiamo la possibilità di trovare il doppio dei leggendari Nel senso che nel momento in cui troviamo il primo leggendario in automatico troviamo anche il secondo In più ci viene preannunciato che settimana prossima dal 29 luglio fino al 5 agosto ci sarà l'evento Sword Harbor Party Con all'interno l'Holiday Sing in Event, il Lucky Wheel e il Dungeon Challenge e altro ancora Magari di questo evento qua ne parliamo settimana prossima quando sarà effettivamente live In più ci viene detto che l'eroe che otteniamo mensilmente dalle quest sarà Quillan Che è un buon eroe sia lato PvP che lato PvE soprattutto per la fazione Poi ci viene detto che il tasto Trading House Altro non è che il tasto Casa Commerciale Verrà rimpiazzato da un nuovo edificio presente nella schermata principale della città Viene aggiunta la funzione ricerca nel filtro eroe e viene sistemata la quest Completa multi battaglie un certo numero di volte in Completa le multi battaglie o effettua il ride un certo numero di volte Ci viene infine ricordato che più informazioni saranno disponibili dal 25 luglio nel momento in cui sarà live la patch Quindi video molto breve giusto per leggere assieme a voi la patch note E un saluto a tutti e alla prossima